Allora amici runners, cominciamo oggi una serie di contributi video registrati dove andremo a parlare in questo momento che è decisamente particolare del mondo del running e giusto per capire, visto che la situazione è veramente delicata e tutto il panorama è bloccato, totalmente bloccato. Ovviamente noi che siamo sui campi di gara vogliamo capire un attimino quale sarà il futuro della nostra passione, del running, in particolare della corsa su strada, poi ci sarà la pista e ci saranno tante altre realtà, però la situazione a giorno d'oggi causa coronavirus è questa e di conseguenza siamo tutti a casa, come dice ovviamente lo slogan, e da casa a questo punto cerchiamo di essere informati e cerchiamo di dare delle informazioni e quindi l'idea di fare questi contributi già da oggi iniziamo. Quindi la prima persona che ho sentito, un carissimo amico prima di tutto, ma principalmente un grosso intenditore di quello che è il panorama nazionale e internazionale di quello che è principalmente il road running della corsa in montagna, Alberto Stretti è in collegamento con me via Skype, ciao Alberto. Ciao Giorgio, buongiorno a tutti gli amici runners che ci stanno seguendo. Allora ho avuto questa iniziativa e ti ringrazio prima di tutto di essere stato tu il primo che ha accettato l'invito per iniziare a parlare di quello che è il mondo del running, in questo momento decisamente delicato, ovviamente facciamo gli auguri a tutti gli amici che conosciamo, prima di tutto di buona salute, questa è la prima cosa e giusto per capire un attimino quello che è il mondo del running, ma io prima di tutto voglio presentare te, tu che sei in collegamento con me, per quanti, diciamo, quei pochi che non ti conoscono, Alberto presentati prima di tutto. presentarmi, nasce tutta la mia passione, nasce con un blog di atletica leggera, un blog che mi ha portato poi step by step ad aumentare la mia conoscenza della materia, arrivando Organizzazione Eventi, dove io e Giorgio abbiamo dato con tanta altra gente, ricordiamo tra cui il presidente Antonio Google che ci comandava, abbiamo dato vita a quel miracolo chiamato Gavardo Meeting, che salutiamo caramente, Organizzazione Eventi per me significa anche Bo Classic tutti gli anni, la corsa di San Silvestro il 31 dicembre in centro Bolzano, l'ufficio stampa di road running nazionale ed internazionali, per me vuol dire assistenza al campaccio, l'ufficio stampa Labo Classic, vuol dire corse in montagna e recentemente vuol dire anche una collaborazione con RCS su tutti gli eventi RCS, l'ultimo impegno il 21 febbraio, la mezza maratona di Ras Al-Kaima, dove c'è stato il record del mondo, al femminile scusate, 1-4-31 dell'Etiopia Ababel Yeshenae. Sono presente poi, sono presente poi sui social con tutti i miei profili e anche sul blog, se volete rimanere sempre informati sul mondo, principalmente sul mondo del road running, non esitate a seguirmi, grazie. Perfetto, benissimo, chiaramente abbiamo capito il livello di quelle che sono le tue collaborazioni, quindi adesso voglio parlare proprio con te di questo momento decisamente particolare. Noi ci troviamo tutti a casa, siamo tutti bloccati, abbiamo informazioni che ci vengono dal mondo, prima di tutto l'Italia ha pagato il prezzo più caro di tutto quello che è stato il problema coronavirus, e c'è stato questo, o annullamenti o spostamenti di grandi eventi. che cosa sta succedendo e di tutti i vari eventi, qui ne abbiamo una sfilza dell'elenco che ovviamente ci siamo scambiati prima di collegarci, ovviamente tanti eventi primaverili, le grandi maratone, mi viene la prima che mi viene Londra, però posso dirti che lo spostamento della BAM, di cui sono lo speaker dell'8 di marzo, ha tutti i vari spostamenti e trasferimenti o annullamenti. Quindi cosa ci sarà? Ingolfamento di eventi? Ci saranno annullamenti? Chi ha il pettorale? Dici un po' quello che sai. Allora, mettiamo un po' d'ordine sulla questione. Per le tante gare annullate in Italia verranno recuperate nel 2021. Statisticamente, come sto leggendo, le gare vengono spostate in blocco, anche i pettorali 2020 vengono spostati nel 2021 e questa è la cosa più logica. Solo alcuni eventi, pochissimi eventi in Italia non hanno confermato. Quindi i nostri amici di Annes, per esempio, della BAM che erano iscritti, quasi sicuramente si troveranno il petrolare per il 2021 e potranno partecipare alla loro adorata gara nella città della Leonessa. Altre gare hanno scelto il buono. Ecco qui, Alberto, scusa ti interrompo, io dalle notizie che avevo c'era la massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di Brescia a spostare la data. Ovviamente i tempi si stanno allungando, per quanto riguarda i termini di rimanere a casa, quindi non si può uscire, non si può fare niente, e si pensava fosse attorno a maggio, però a questo punto sarà tutto da vedere. Tu mi fai un no, quindi? No, per due considerazioni. Oramai la stagione primaverile di Maratona è totalmente andata. Sia in Italia che in estero è stata fatta completamente tabula rasa, perché il virus è arrivato prima in Italia e poi adesso si sta espandendo le problematiche in tutta Europa. Infatti proprio ieri sera un grosso management olandese mi chiedeva com'è la situazione in Italia, perché noi cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni di quello che sta succedendo qui in Olanda. Per esempio notavano che da loro, esulando dal discorso, non hanno ancora chiuso le scuole. Quindi al momento rimangono attive, su scala nazionale e internazionale, rimangono attive due gare che sono incalendarizzate il 3 di maggio, la Maratona di Praga e la Maratona delle Cattedrali in Italia. Vi diriamo se queste gare ce la fanno a rimanere in calendario al 3 maggio. I tempi potrebbero essere sufficienti, però è difficile saperlo. Successivamente impostare una Maratona, come sai bene anche tu Giorgio, impostare una Maratona in Italia o una mezza Maratona ha problematiche meteorologiche importanti, perché il caldo potrebbe influenzare tantissimo sul rendimento e una Maratona il 20 di maggio, viste anche poi le concomitanze del calendario, diventa un po' un rischio, un azzardo per le condizioni meteo, perché si creerebbero altre problematiche col caldo. Scusa Alberto, non dobbiamo dimenticare che sono ancora in programma le Olimpiadi di Tokyo. Quindi i grandi eventi, ovviamente i grandi protagonisti, sono anche rivolti all'Olimpiade. E quindi avere Maratone troppo ravvicinate a questo punto diventerebbe un problema. Correggimi. No, dici molto bene. L'Olimpiadi di Tokyo è la chiave di svolta per vedere come andrà tutta la seconda parte di stagione, per impostare la seconda parte di stagione per gli elite. L'Olimpiadi di Tokyo, al momento ci sono situazioni che tendono a confermare la presenza, ci sono rumors contrastanti. Quindi la certezza della conferma delle Olimpiadi al momento non l'abbiamo. Ci sono varie soluzioni, aspettiamo risposta in brevi giorni. In base a questo potresti capire poi l'impostazione delle Maratone autunnali, che sarà, come abbiamo detto, un affollamento bestiale. Ascolta, prendiamone una ad esempio che è quella che aspettavamo tutti, che era poi Londra, il famoso scontro tra i due titani, Becchele, Kipchoge. Londra. Londra è stata posticipata l'altro giorno e è stata riempiata al 4 dino di ottobre. Cosa dire? Londra sarà la gara principale che dovrà aspettare il verdetto delle Olimpiadi. Allora, la Maratona, se non vado errato, è calendarizzata l'Olimpica il 9 di agosto. Per i big, fare una Maratona il 9 di agosto e fare una Maratona il 4 di ottobre è troppo vicino. Quindi è troppo vicino per i big, perché i big necessitano, potete fare la Maratona ad agosto e poi fare al massimo Valencia il 6 di dicembre, ma il 4 di ottobre è prestissimo. Quindi, mi viene da pensare che necessitiamo di vedere il parere finale sulle Olimpiadi e poi tutto va in automatico. Una chicca che posso dirvi è che a livello di Elite sia a Boston, ricordo io calendarizzata adesso, il 14 di settembre, che a Londra confermano i contratti con gli Elite, ovvero l'Elite che era il campione che aveva in programma di correre a Londra, per quanto riguarda a Londra, è già automaticamente invitato e ingaggiato, come si suol dire, anche per il 4 ottobre. Quindi vediamo, è tutto un divenire in base alle Olimpiadi. Poi tutti i tasselli andranno automaticamente a posto. Sì, io vedo quale l'elenco che mi hai mandato, è veramente un massacro. Cioè, veramente, ci sarà un autunno di quelli che dire caldi è dire poco, sperando che le cose si sistemino. Perché stando a quello che dicono le opinioni politiche, parliamo del paese britannico, dove da noi si parla di settimana in settimana, massimo 15 giorni, gli esperti britannici parlano di un discorso di virus tra le 10 e le 14 settimane. Pazzesco perché parliamo di tre mesi, quindi dovremo andare addirittura fino a giugno e questo sicuramente ribalterebbe qualsiasi pronostico, anche dal punto di vista organizzativo. Correggimi. No, dici bene. Partiamo comunque, come abbiamo detto prima, partiamo dal presupposto che l'Italia è in anticipo su tutti i tempi d'Europa, sulla problematica del coronavirus. Quindi probabilmente da noi si auspichiamo di cuore il movimento sportivo potrà ripartire prima del resto d'Europa. e quindi noi siamo un attimo in anticipo perché, come ribadisco, perché gli inglesi hanno bloccato la maratona l'altro giorno. In Italia tutte le maratone erano già bloccate da settimane perché oramai il problema era già emerso. C'è una differenza di un paio di settimane. Sì, come dici tu, poi il calendario è foltissimo. La cosa più importante è che la cosa più che noto prima di tutto sono cinque majors marathon nel giro di sei settimane. Boston il 14 settembre, Berlino il 27, Londra il 4, Chicago l'11 ottobre e l'1 di novembre la maratona di New York. È un calendario zittissimo. Vorrei vedere, scommetto, che ci saranno amici runners disposti a viaggiare che saranno in grado o avevano già i pettorali che le faranno tutte. Mamma mia! Beh, ma ci sta, un viaggio ci sta, li capisco, fanno bene. Sarebbe una sfida con loro stessi, una sfida di riuscire a concludere cinque majors in sei settimane. Per chi non riesce a uscire a fare questa politica, rimace anche a Amsterdam e a Parigi il 18. Segnalo la maratona, segnalo e permettemi di spendere una parola sulla bellissima maratona di Valencia il 6 di dicembre. Sì. Quindi un calendario foltissimo. Poi rimane, c'è un altro evento che è stato posticipato e calendarizzato il 17 ottobre. Dali di mezza maratona? Sì. Vediamo un attimo perché non ti sento, Alberto, un attimo, c'è il collegamento di Skype. Mi senti? Certo. Perfetto. Io non ti ho più sentito. Se puoi riprendere da Valencia, perché io ti ho perso. Stavo dicendo che ci sono i mondiali di mezza maratona il 17 ottobre anche a Ghidini in Polonia. lì è vociferato che la farà Geoffrey Canvoror. Ma Geoffrey Canvoror regolarmente farebbe uso condizionale perché non c'è nessun annuncio, farebbe poi New York. Fare i mondiali di mezza il 17 ottobre e poi fare New York l'1 novembre è un po' a rischio, è un po' troppo corto perché non recuperi, perché gli elite hanno margini diversi di recupero rispetto a un master. E questo potrebbe essere un altro punto di discussione. Bisogna vedere nel tempo quando New York annuncerà gli atleti perché se faceva i mondiali come sarà tutto. Certo, assolutamente. Ascoltami Alberto, io penso che a questo punto abbiamo dato un panorama e ovviamente siamo, saremo in attesa di quelli che saranno i prossimi sviluppi della situazione speriamo positivi e soprattutto come dicevamo noi siamo partiti in anticipo purtroppo con tutti i problemi del caso e vedremo quello che succederà poi negli altri paesi europei. Alberto, io direi che è più che sufficiente abbiamo dato tanti dati e magari ci risentiremo per aggiornarci nei prossimi giorni e sicuramente faremo un altro collegamento per vedere come andranno le cose. Intanto io ti ringrazio e a questo punto con l'hashtag io resto a casa ce ne stiamo a casa ma almeno ci vediamo e parliamo di atletica come sempre. Certo, è la cosa migliore. Ricordo tutti anch'io io resto a casa è la soluzione migliore. Grazie Giorgio e buona atletica. Grazie Alberto, Alberto Stretti seguiamoci sui social e stiamo vicini ma lontani. Ciao ragazzi, grazie a tutti, ciao Alberto e ci troviamo al prossimo appuntamento. Ciao e grazie. Ciao.